Musica Ciao a tutti, oggi siamo nel comune di Valdieri che fa parte del Parco Naturale delle Alpi Marittime e la nostra destinazione è il Rifugio Valasco. Siamo pronti? Dai una spalla! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Dopo circa dieci minuti di strada sterrata si imbocca il sentiero mantenendola a sinistra. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Come potete vedere siamo arrivati al Rifugio Valasco che è alle mie spalle e adesso ci fermiamo un attimino per la pausa pranzo. Pausa terminata, adesso torniamo al parcheggio ripercorrendo lo stesso sentiero di prima. Grazie a tutti! 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 Si può scegliere tra due itinerari il sentiero che è leggermente più complicato oppure si può percorrere la strada delle mountain bike. In tutto tra andata e ritorno sono circa due ore e è tutto abbastanza fattibile. Quindi noi ci lasciamo e ci vediamo per la prossima volta sempre con Zaino in Spalla! Grazie a tutti! Grazie a tutti!